Un utente di Gimp Italia ha chiesto come poter ottenere l'effetto Mr. Brainwash con The Gimp. L'effetto in parola è questo qua e ho cercato di ottenerlo in particolare sfruttando il filtro sposta attraverso una mappa a sbalzo in scala di grigi. Allora andiamo ad eseguire il nostro tutorial e ho scaricato per fare questo un'immagine della gioconda. Allora andiamo a iniziare, duplichiamo il nostro livello. Adesso il nostro livello duplicato lo trasformeremo in scala di grigi. Per fare questo andiamo da Colori, Componenti, Mixer Canali. Impostiamo il canale rosso a zero e il verde e blu 50 selezionando il monocromatico. Diamo OK. A questo livello trasformato in scala di grigi diamo una sfocatura gaussiana. Andiamo Filtri, Sfocatura, Gaussiana e impostiamo Pixel a 20. Diamo OK. Come potete vedere abbiamo ottenuto una mappa a sbalzo in scala di grigi. Allora adesso andiamo a inserire un nuovo livello bianco. Diamo OK. A questo nuovo livello bianco andiamo applicare una griglia. Per fare questo andiamo Filtri, Render, Motivo, Griglia. In particolare io ho impostato questi parametri. Solo verticale, 2 pixel, una spaziatura di 20, uno spostamento di zero e il colore verticale è nero. OK. Diamo OK e si andrà a creare la nostra griglia verticale. Duplichiamo e impostiamo il livello duplicato in modalità moltiplicatore. Andiamo a duplicare questo livello moltiplicatore in più livelli e adesso andiamo a applicare il filtro sposta. Andiamo in filtro, mappa, sposta. Impostiamo la nostra mappa a sbalzo in scala di grigi. Lasciamo lo spostamento nell'asse cartesiano X, ovviamente con modalità spostamento cartesiano. Togliamo lo spostamento sull'asse delle Y e diamo uno spostamento di 2 pixel. Diamo OK. Come vedete si comincia a spostare. Selezioniamo l'altro livello, Filtri, Rimostra, Sposta e in questo caso diamo meno 2. OK. Vedete che si sta cominciando a creare la nostra immagine. Continuiamo, Filtro, Rimostra, Sposta, diamo meno 4. OK. Selezioniamo l'altro livello, Filtro, Rimostra, Sposta e in questo caso adesso usiamo più 4. Così facendo, come vedete si va creando la nostra immagine, Filtro, Rimostra, Sposta, ripetiamo, diamo 6. OK. Selezioniamo l'altro livello, Rimostra, Sposta, meno 6. OK. Filtro, Rimostra, Rimostra, Sposta, meno 8. OK. Ecco, abbiamo creato il nostro effetto, più o meno, facsimile. Ho messo più livelli, sono inutili. Ne andiamo a eliminare. OK. Diamo Fondi, livelli visibili. Fondiamo. Adesso a questo livello andiamo ad applicare una piccola sfocatura. Filtro, sfocatura, gaussiana, 20 e esagerata, 2 pixel e diamo OK. Allora, adesso noi possiamo andarci tranquillamente a trasformare questa immagine, magari dando una mappa gradiente con i colori che più gradiamo. lasciamo un blu, ok, come primo piano, colore di sfondo, diamo un bianco leggermente sporco. OK. Adesso andiamo ad applicare colori, mappa, mappa gradiente. OK. OK. E così abbiamo terminato il nostro effetto. Possiamo ovviamente creare delle migliorie. Creiamo un nuovo livello bianco. Filtro. Diamo un disturbo RGB. RGB. Io ho impostato questi parametri. Andiamo OK. Mettiamo in modalità sovrapposto. Colori, inverti. E impostiamo un'approcità al 40%. Con questo è tutto. Avevo terminato. Ciao.